salve a tutti qua da fabio oggi c'è un nuovo video sbarbata prima di iniziare il video sbarbato lo sponsoriamo a un canale di youtube che si chiama eros rasatura tradizionale lascerò link in descrizione lascerò anche il sito web il sito di rasoghi di elof che sono affiliato e lascerò in descrizione anche la pagina facebook di neoafitipa passione anche lì andatevi a scrivere che è un gran mondo di rasatura tradizionale iniziamo a fare una bella sacquata con l'acqua calda ora visto che va di una giornata orgiosa usiamo il polaro rosso come sap crema come pre barba usiamo il solito udia smile deli of glory ottimo prodotto pre barba e soprattutto perché sto preferendo questo perché non ha profumazione quindi non si sente poi la profumo del sapone ecco e solo per ammorbidire un pochino ma va di tre giorni o quattro quattro forse o tre quattro giorni non mi ricordo adesso mi sono dimenticato una cosa la ciotola fenix gli ho messo un po d'acqua intanto che agisce pre barba fermiamo il rasoio da wickson plasticone montiamolo con delle belle lamettite che mi piace un casino al doppio incarto adesso vi faccio vedere al doppio incarto incarto io non ci dovrebbe essere la colla la colla c'è poca ma c'è vabbè se vedi messa fate così quando il rasoio rosso ottimo candiamo un attimo il pennello adesso vi faccio vedere qual è il genit d'asso non ci dovrebbe essere il genit non ci vedi non ci dovrebbe essere il genitore non ci dovrebbe essere il non ci dovrebbe essere il genitore però non ci dovrebbe essere il genitore i Alla prossima. Grazie. 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 Secondo passaggio. Grazie. Adesso facciamo l'obliquo. Grazie. 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 un po' di mattita emostatica e lo trovo nei buffoletti. Allora, iniziamo con il balsamo. Il balsamo è usato per l'osso, praticamente. Tornando un po' di fretta perché trova la batteria del telefono. Per quello che sto andando di fretta, per farmi lo spegnere. Allora, iniziamo a parlare del rasoio, il rasoio è ottimo, con il clip d'attimo, barba di 3-4 giorni polverizzata. Certo, io non lo consiglio come il Wixxon per i nofiti questo qua. Iniziate con Gillette King perché secondo me è meglio. Adesso ci mettiamo il denim original, la botta alcolica ci sta sempre. Mi raccomando di iscriverti al canale di Eros, vi lascio il link in descrizione anche nella pagina Neofiti per Passione, nella pagina di Facebook e nel sito di rasoio di QDR dove sono affiliato. Se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale, attivate la campanella delle notifiche, commentate e lasciate un bel like. Spaccate il pulsante del like. Da qua è tutto, una buona sbarrata e una buona giornata a tutti quanti.